musica 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 consigliamo una nuova cosa per approcciare con una donna sapete la canzone ok nuova versione quante spalle ci sono? in una stanza così la conquistate è vostra oh che errore ciao 1 2 3 1 2 3 ragazzi questa mattina ci siamo svegliati presto per colpa sua non è vero siamo svegliati alle 6 per fare le foto ma non è vero alle 7 infatti non tolgo gli occhiali da sole per per non mostrare le occhiaie è una situazione pietosa abbiamo fatto delle foto ragazzi non avete idea le vedrete molto presto qui nel profilo davvero brutte che fotografo ma guarda ma come brillo ston probabilmente no più che altro perché questa mi piace tantissimo secondo me rappresenta sia me come persona che il mio profilo però vedremo anche con gli scatti di questi giorni magari boh carico 1 2 3 mondo 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 racconta cosa appena è successo ti ho guardato e ho sono andato dentro mamma in bicicletta è caduto in bicicletta raga si è fatto malissimo quindi poverino sono state bravissime fino adesso continuiamo così allora facciamo prima direi una foto di gruppo di gruppo? no prima la foto singola con ciascuna di voi e poi ci mettiamo tutti insieme c'è la foto c'è la foto una delle tue risate il primo giorno di una nuova estate ho voglia di fare fatti la sera karaoke guantanamerà che tutta la foto il primo giorno è troppo il primo giorno è il primo giorno è il primo giorno è quittà di di ecco la margine sono margherite che beffa Vabbè, mi siete finita? Vabbè, mi siete finita? Grazie a tutti.